Rigettata la richiesta di riqualificazione di uno dei due capi di imputazione questa mattina dal Tribunale Collegiale di Pescara, nel corso della prima udienza del processo a carico di due romeni rinviati a giudizio in relazione alla morte di Anna Carlini, la donna pescarese di 33 anni affetta da problemi psichici rivenuta priva di vita nell'agosto del 2017 lungo il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara. Nel processo intanto il comune del capologo adriatico tramite l'avvocato Lorena Petaccia si è costituito parte civile all'esterno del Tribunale la protesta dei parenti della donna e degli aderenti all'associazione Codice Rosso. Oggi il capo di imputazione rimane omissione di soccorso, mi auguro che durante il processo cambi il capo di imputazione perché sappiamo perfettamente che non è un'omissione di soccorso ma è un omicidio e io mi batterò fino all'ultimo per questo, perché Anna è stata, questo è omicidio, Anna l'hanno ammazzata e noi l'hanno ammazzata due volte, quindi io voglio sperare, mi voglio augurare veramente che esce l'omicidio quello che è, è inaccettabile questa cosa. In questo procedimento il comune di Pescara si è costituito parte civile? Sì, il comune di Pescara e la regione si sono costituiti parte civile, questo è un segnale forte per queste vicende che ormai accadono tutti i giorni proprio per queste sentenze horror che si fanno. Noi insieme all'Associazione Codice Rostro la nostra battaglia continua, io non mi fermo perché Anna merita giustizia come tutte le vittime che sono prede di questi assassini. Ricordiamo che Anna è anche una madre, è stata tolta una madre a due figli, io ho perso la metà del mio cuore, io chiedo solo giustizia, è inaccettabile, io non ho più parole, sono quasi trascorsi tre anni, nonostante il nostro dolore vivere anche questa ingiustizia. Come si può sopravvivere? Hanno tolto una vita, Anna aveva stuprata, fatta bere. Io mostrerò anche le foto di quello che Anna aveva sul corpo. Leggiamo le carte prima di fare le sentenze, leggiamo le carte. Per favore, questo è omicidio, Anna oggi poteva essere qui con noi, se soccorsa. Perché? Perché tutto questo? Perché?